quando la destra non sa che pesci prendere c'è un argomento sicuro che fa presa sull'opinione pubblica e al quale loro non rinunciano mai e dunque arrivati a pochissimi giorni dal voto europeo giorgia meloni si è scatenata sulla legge bossi fini che secondo lei andrebbe stretta ulteriormente sul click day che non funziona sulla campania dove il presidente de luca sappiamo che il suo bersaglio preferito in questo momento e anche in questo caso secondo me ha dimostrato un elemento che è proprio trasversale un po un fil rouge della sua esperienza di governo quello di essere molto ideologico ma privo di capacità di visione privo di una strategia anche a medio e lungo periodo per il nostro paese ed è chiaro che con la difficoltà che abbiamo in italia ad avere nuove nascite con la popolazione che invecchia l'immigrazione è una soluzione non è un problema però bisogna metterci la testa ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi che il 6 giugno 2024 io sono ivan scalfarotto questa è la versione di ivan e noi andiamo a incominciare io sono ivan scalfarotto e questa è la versione di ivan una storia al giorno dal lunedì al venerdì rigorosamente dal mio punto di vista è così la presidente del consiglio è andata dal procuratore nazionale antimafia giovanni melillo a consegnargli la sua denuncia relativa alle presunte irregolarità che ci sarebbero nel meccanismo che consente le nostre imprese di assumere lavoratori extracomunitari per i loro fa bisogni lavorativi che cosa dice giorgia meloni dice che i numeri non tornano nel senso che in particolare da alcune regioni come per esempio la campania le richieste di lavoratori extracomunitari sarebbero sproporzionate rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro per esempio a palazzo chigi dicono che nel 2023 le domande totali di ingresso per lavoro stagionale sono state 282.176 di cui 157.000 in particolare dalla campania che ha il 6 per cento delle imprese agricole la puglia invece che ha il doppio delle imprese agricole della campania avrebbe richiesto soltanto 20.000 lavoratori quindi dice meloni le cose non tornano qui probabilmente c'è lo zampino della criminalità organizzata e quindi dobbiamo rivedere anche la normativa per la assunzione appunto di questi lavoratori stranieri dobbiamo mettere mano alla legge bossi fini e sostanzialmente quello che sembra dire che bisogna mettere mano in senso restrittivo a questa legge ora questa bossa di meloni ha provocato naturalmente tutta una serie di discussioni e di rilievi in particolare per il fatto che meloni è andata da giovanni melillo dal procuratore nazionale antimafia che non ha come ha notato qualcuno diciamo un ruolo investigativo la procura nazionale antimafia serve a coordinare tutte le indagini che le varie procure poi territoriali portano avanti sulle organizzazioni criminali ma di per sé non è il luogo adatto dove si vada a depositare un esposto una denuncia poi è chiaro che il procuratore nazionale antimafia che ha ricevuto una segnalazione dal presidente del consiglio certamente la passerà ai suoi colleghi sul territorio però diciamo che si è in un certo senso sottolineata la natura propagandistica di questa mossa di meloni che appunto ha fatto questo ricorso alla procura nazionale antimafia che sicuramente attrae maggiormente l'attenzione dei giornali di qualsiasi altra autorità giudiziaria però in realtà molti si sono anche chiesti perché meloni invece di ricorrere alla magistratura non abbia utilizzato i numerosi strumenti che come presidente del consiglio ha in mano a partire dal ministero dell'interno che ha il controllo dell'immigrazione sia dal punto di vista proprio demografico sia dal punto di vista del controllo delle frontiere perché anche la polizia di stato naturalmente riporta al ministero dell'interno e certamente c'è una componente propagandistica ma a mio avviso c'è un discorso poi più sostanziale da fare e che la destra alla fine ricorre a questa bandierina a questo campanello d'allarme che l'immigrazione sempre sollecita nell'opinione pubblica e non si acconcia invece a fare l'unica cosa che dovrebbe fare e cioè rendersi conto che l'immigrazione non va denunciata o non va considerata o trattata come un elemento di allarme sociale ma dovrebbe essere oggetto di una strategia lucida intelligente perché la verità è che qui in italia come nel resto d'europa ma in italia in particolare stiamo vivendo quello che si chiama un inverno demografico e cioè la nostra popolazione invecchia abbiamo sempre meno giovani meno bambini che nascono e questo comporta tutta una serie di problematiche in particolare dal punto di vista lavorativo ma direi anche dal punto di vista previdenziale perché diminuendo la popolazione attiva e cioè la popolazione che lavora che produce ricchezza che paga dunque i contributi con i quali paghiamo le pensioni noi abbiamo sempre più spesso posizioni di lavoro che facciamo fatica a riempire e guardate che ci sono tutta una serie di questioni che sono legate anche al potenziamento degli organici e al reperimento di forza lavoro qualificata che possa poi portare avanti talune funzioni necessarie importantissime dello stato faccio un esempio che è quello degli infortuni sul lavoro di cui parliamo purtroppo spessissimo a causa della lunghissima catena di morti che abbiamo possiamo dire quotidianamente sui luoghi di lavoro e ogni volta che si parla di rafforzare gli ispettorati del lavoro di rafforzare quindi gli uffici territoriali del ministero che devono andare a verificare la corrispondenza delle pratiche aziendali alle normative sulla sicurezza si ci si riferisce a un settore dove gli ispettori del lavoro mancano e bisogna andare a trovarli faccio un altro esempio a milano che è la mia città l'atm che è l'azienda del trasporto municipale che è un'azienda molto efficiente il trasporto pubblico a milano funziona ecco a milano l'atm ha dovuto tagliare le corse di alcune linee di tram perché assumere tramvieri non è facilissimo certo c'è un tema per esempio legato alle retribuzioni ma ci sono oggettivamente difficoltà proprio a reperire persone che sono disponibili ed evidentemente se potessimo allargare la platea delle persone a cui offrire la possibilità di occupare quelle posizioni di lavoro questo renderebbe più semplice probabilmente trovare candidati idonei a quella funzione e poi c'è tutto il tema per esempio della sanità pubblica dove medici infermieri mancano ci sono regioni italiani che cercano medici da altri paesi come per esempio cuba c'era stata una convenzione recente della regione calabria per esempio per portare appunto in quella regione medici cubani che potessero riempire i vuoti presenti negli organici della nostra sanità pubblica e allora il tema che bisognerebbe approcciare la questione della immigrazione con tutto un'altra filosofia che non deve essere quindi quella degli allarmi e della criminalizzazione della immigrazione ma dovrebbe essere quella di una pianificazione intelligente di una analisi dei nostri fabbisogni anche della possibilità per chi ha i requisiti per venire a lavorare in italia di poterlo fare in modo semplice e invece quello che accade è che abbiamo una legge bossi fini che probabilmente anzi certamente andrebbe abrogata perché è una fabbrica di irregolari di fatto attraverso la legge bossi fini trovare un posto di lavoro in italia è sostanzialmente impossibile anche perché i famosi decreti flussi di cui parla la nostra primo ministro la nostra presidente del consiglio sono fatti sul presupposto che le persone che vogliono venire in italia siano in quel momento all'estero ora andare ad assumere una persona che è all'estero e che neanche conosci è una cosa che nessun datore di lavoro ovviamente fa tra l'altro dovendo dimostrare che non c'è nessun italiano che può ricoprire quel posto è chiaro che le persone che diventano protagoniste del click day sono persone che sono già in italia che sono già irregolari e che poi magari fingono di andare di ritornare al proprio paese per prendersi il visto tenuto col click day ma sarebbe molto più semplice prima di tutto regolarizzare tutti gli stranieri che sono in italia che hanno già un lavoro che non si capisce per quale motivo non dovrebbero essere regolarizzati e come dice l'hollobrigida andrebbero espulsi ma perché e in secondo luogo forse anche creare le condizioni per far sì che chi vuol trovare un lavoro possa prendere un visto per cercare lavoro e poi se il lavoro non lo trova allora a quel punto si può pensare di espellerlo ma espellere persone che sono in italia che servono ai propri datori di lavoro spesso sono le nostre famiglie tra l'altro è veramente un non senso io mi siamo qui noi ci sentiamo domani avete ascoltato la versione di ivan un podcast di ivan scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di teseo ispirato dall'omonimo libro edito da un'opera ispirato dall'omonimo libro edito da un'opera